Grazie a tutti. Esordio a Bologna in campo internazionale, esordio praticamente con un gol oggi al delle Alpi. Un pensiero tuo su questo Juventus? La Juventus che c'è diciamo, la Juventus che ha dimostrato finora di essere competitiva e che man mano che andiamo avanti con le partite si vedrà cosa si potrà fare. Raccontaci un attimo la tua vita calcistica, da dove sei nato calcisticamente? Io sono nato a Conegliano e poi a 13 anni sono andato a Padova dove ho passato le ultime 5 stagioni, 4 delle quali nel settore giovanile, l'anno scorso con 10 presenze in prima squadra e poi adesso sono qua e vediamo un po' come va. Il tuo rapporto con i compagni, soprattutto con i grandi campioni? Un rapporto abbastanza normale. Certo per me appena sono arrivato è stato qualcosa di particolare per davanti certa gente. Però grazie anche a loro che sono riusciti a mettermi a mio agio, sono riuscito a inserirmi abbastanza bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello che a me è sempre piaciuto dare, cioè passione innanzitutto, voglio di vincere vittorie.